Salutiamo insieme Salvini e le sue ruspe e teniamo sempre il loro ricordo nei nostri cuori. Ritorniamo nel mondo della Kaiserreich. La vittoria sugli imperi centrali nella prima guerra mondiale ha cambiato la storia. Gli Stati Uniti in questo scenario, dopo l'affondamento dell'usitania, hanno deciso comunque di non entrare in guerra, pur continuando a supportare commerci e investimenti l'intesa. L'intesa sconfitta è detonata nella ribellione comunista e non ha potuto ripagare gli Stati Uniti per lo sforzo bellico. A questo si aggiunge la Grande Depressione, una crisi economica devastante che ha portato la nazione in una spirale di disoccupazione e scontro sociale. In questa Ucronia, un giovane Franklin Delano Roosevelt muore di polio nel 1921. L'inutile presidente Hoover si è dimostrato totalmente incapace di risolvere la crisi e gli States sono diventati ormai il campo di battaglia tra i sindacalisti di John Reed e l'America First Party di Weilong. Abbiamo bisogno di qualcuno in grado di riportare l'ordine. Ci riuscirà il generale Douglas MacArthur? Scopriamolo insieme in questa nuova serie del canale Meievi 95. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della nuova serie del canale con gli Stati Uniti d'America nel mondo della Kaiserreich. Nell'introduzione ho cercato di spiegarvi un po' come sarà la situazione, quale sarà l'obiettivo di questa campagna. Ovviamente prima di tutto sopravvivere, vincere la seconda guerra civile americana con Douglas MacArthur. Ho lasciato un sondaggio nel canale in cui buona parte di voi ha risposto proprio per vedere questa serie con i nazionalisti di Douglas e diciamo che comunque siete stati abbastanza bastardi perché è la campagna più difficile tra quelle che avevo proposto, ossia l'America Union State di Waylong oppure il Combined Syndicates of America di Jack Reed o appunto quella di Douglas MacArthur. Allora cominciamo subito con i focus. Allora, dato che comunque non possiamo far nulla perché alla fine dobbiamo, cioè, defend America quando siamo durante la guerra civile, possiamo solo rinforzare o la marina oppure la forza aerea. Ecco, dato che comunque potrebbe essere interessante anche migliorare la forza aerea in previsione della guerra contro, della guerra civile. Quindi direi di fare subito questo e vediamo cosa fare. Allora, le ricerche, tutto quello che ci può essere utile per vincere. Allora, sicuramente la dottrina e poi miglioriamo a livello industriale perché dobbiamo svilupparci il più possibile. Vediamo cos'altro abbiamo. Sicuramente elettronica lo facciamo subito. Poi le civili libere disponibili possiamo mettere in costruzione magari. Allora, noi combatteremo in quest'area e nell'area di Washington. Quindi magari possiamo costruire qualche fabbrica militare a Washington e in quest'area. Sì, facciamo nel Maryland molto bene. Magari anche qualche infrastruttura farei anche perché qui poi dobbiamo combattere. Vediamo se bastano. Sennò potremmo avere problemi di attrito. Ecco, facciamo qualche infrastruttura proprio niente di troppo complicato. Per quanto riguarda le fabbriche militari e sicuramente sui fucili. Artiglieria, vediamolo. Interwar Bomber ne abbiamo fin troppi. Anche Naval Bomber direi di produrre solo questi. Solo Fighter, perfetto. 5 sui Fighter. Ridurrei un po' sui fucile e metterei sull'artiglieria. Molto bene quello che riusciamo a produrre. Vediamo intanto per quanto riguarda la produzione marittima. Io metterei queste battleship veloci. Poi abbiamo, vediamo un po', ecco, dei cruiser sempre del 33 perché comunque adesso ve li faccio vedere nell'albero tecnologico e magari qualche sottomarino del 33 della classe Squalo o Shark e magari dei convoi. Perfetto. Allora direi di mettere 10, 10, magari 15 sulle battleship, 10 sui sottomarini e altri 3 sui convoi. Perfetto ragazzi. Vi faccio subito vedere come hanno risposto un po' la situazione navale per quanto riguarda la Kaiserreich. Come potete vedere l'albero tecnologico è completamente rifatto, è molto utile. Tanto quella c'era una panoramica sugli Stati Uniti del 36 che comunque già conosciamo e diamo il via alla campagna. Ecco, già conosciamo perché ve ne ho parlato un po' nell'introduzione ma ne parleremo in tutta la serie quindi non ha senso ammorbarvi troppo con la lore del gioco. Io andrei pure a 4 perché alla fine bisogna aspettare. Vi anticipo subito che questo episodio sarà un po' tagliato perché appunto vorrei arrivare il prima possibile alla guerra civile e divertirci così assieme a perdere perché ve l'ho detto è molto difficile giocare con Douglas MacArthur. Intanto vediamo un po' la criminalità serpeggia, il crimine serpeggia negli Stati Uniti. Vabbè questo è il periodo della grande depressione quindi assolutamente fame, miseria, disoccupazione porta ai crimini. Diciamo che comunque negli Stati Uniti c'era stata un'ondata di crimine negli anni 20 e negli anni 30 soprattutto anche per il proibizionismo che effettivamente non funzionò. L'unica cosa che fece fu incrementare gli introiti alla mafia. Un po' di eventi ragazzi analizziamoli con calma. Prima di tutto è arrivato lunedì nero quindi c'è stata la crisi economica globale scoppiata in Germania perché comunque in questo scenario in cui la Germania ha vinto la prima guerra mondiale chiaramente la Germania è la principale superpotenza. Se crolla lei economicamente crollano un po' tutti. Quindi nel nostro anno guardate che aumenta i malus che abbiamo nella produzione. Non stiamo producendo praticamente nulla. C'è stata questa guerra tra l'Afghanistan e il dominio di India. Il dominio di India è l'ultima colonia che è rimasta ai possedimenti della corona britannica che si è dovuta trasferire nel Canada perché nell'Unione Britannica ci sono i socialisti. Bene bene bene. Poi abbiamo dei profitti che arrivano dalle città, dalla Lega delle città libere. Praticamente queste città sono una sorta di città-stato che si trovano in Cina e che praticamente consentono a tutti di accedere al mercato cinese. Quindi guadagneremo qualche soldino in più. Si stanno formando delle milizie paramilitari, delle varie organizzazioni di cui abbiamo parlato nell'introduzione che sono l'America First Party e appunto i sindacalisti, bene. No, non è bene, quindi stabilità a meno 5%. Poi mi dice, dato che comunque ormai il sistema americano non è più bipolare, perché sapete no? La differenza tra repubblicani e democratici. Dato che non è più bipolare perché si sono andati a creare nuovi partiti, dice, per cercare di affrontarli facciamo una coalizione. Ecco, questa cosa non ha alcun senso, quindi non la facciamo perché è una coalizione tra repubblicani e democratici, poi con un testa di cazzo come Hoover. Scusate un po' la terminologia, ma è stato il peggior presidente degli Stati Uniti. Questo era veramente un totale idiota. Forse l'unico peggiore di lui fu Wilson, quello della Prima Guerra Mondiale. Però va bene, va bene lo stesso. Dai, vediamo intanto espandere gli aeroporti. Va benissimo, facciamoli subito. Che nel Kansas potrebbero essere utili avere degli aeroporti migliori. Vediamo un po'. Allora, abbiamo le nostre truppe. Ecco, la gestione dell'esercito non l'abbiamo tanto considerata. Abbiamo solo cinque divisioni. Che merda! Mamma mia! È vero che comunque siamo in crisi da parecchi anni e quindi ci sta avere una situazione così fecale a livello dell'esercito, però con un paese di 320 milioni di abitanti. Vabbè, questo periodo ne avranno meno 250 milioni. Ecco, mettiamola così. Però comunque avere cinque divisioni mi sembra un po' pochino. Dicevo ragazzi che il mio canale va un po' a periodi. C'è stato un periodo in cui avevo fatto tantissime serie con la Germania che vi invito a recuperare. Una bellissima con il signor Ilter. Una serie particolare in cui si giocava con più nazioni. Poi avevo fatto anche nella Cold War. Intanto continua ad aumentare il consenso di tutti gli altri partiti che non sono quelli di... non è quello di Hoover. Non è quello repubblicano. E questo periodo, diciamo, sarà questo a cavallo qui di dicembre tra le vacanze di Natale. Sarà un po' il periodo americano. Avrete questa serie con la Kaiserreich della seconda guerra civile americana. Poi avrete una serie con Age of Civilization 2 in cui giocheremo nello scenario della prima guerra civile americana. E poi un imparato anche a giocare USA nel multiplayer competitivo. Quindi dovreste vedere anche una live recentemente in cui giocherò con gli Stati Uniti. Così per tutti coloro che fossero affascinati un po' dal competitivo di Earth of Iron 4 e volessero imparare a fare gli Stati Uniti. Ecco, vedrete come li gioca il vostro mai dire. Il periodo americano del canale. Sono entusiasta. Vediamo come va. Il buon Herbert Hoover è una figura controversa. No, per niente controversa. Era proprio una mezza sega. Un presidente inutilissimo che non capì nulla della crisi. La cosa che più mi ha affascinato di lui è che quando anche tutto il suo partito gli diceva no, lo Stato dovrebbe intervenire comunque nelle questioni economiche. Dobbiamo aiutare la nostra popolazione che soffre per la crisi del 29, per la grande depressione, c'era disoccupazione. No, lui era affascinato. La teoria della mano invisibile, quindi capitalista, sfrenato perché lui era anche un milionario. Diciamo che non è stato Trump il primo presidente milionario, miliardario degli Stati Uniti. Anche questo Hoover che si era arricchito con la geologia. Pensate, lui era un geologo. Ha comprato delle miniere. Si è arricchito, no? E lui era un sostenitore del fatto che comunque i privati dovessero farcela da soli. Era convinto che l'economia si sarebbe sistemata da sola, ma appunto non è andata così. Vediamo intanto qui cosa dice. La Liberia ha bisogno d'aiuto? Certo che le aiutiamo. Bene, dai, le aiutiamo perché dovrebbe essere una nostra colonia, se non ricordo male. Sì, praticamente noi abbiamo come il nostro piccolo impero coloniale, abbiamo la Liberia e le Filippine, giusto? Sì, anche le Filippine. Emilio Aguinaldo. Bene, interessante. Allora io direi di fare la grande flotta bianca, grandi navi da guerra. Ecco, una cosa che non serve a nulla, alla fine si è dimostrato inutile fare le grandi navi da guerra nella seconda guerra mondiale. Chiedetelo appunto alla Yamato o alla Roma. O alla Bismarck. Ecco, purtroppo si è scoperto che alla fine fare navi gigantesche quando un cazzo di trabiccolo aereo te la poteva affondare non era più utile, ecco. Bisognava investire sulle portaerei. Tra l'altro ho letto recentemente, non c'entra nulla con gli Stati Uniti, ho letto recentemente che i giapponesi, non contenti dal loro Yamato, che era già la nave da guerra più grande del mondo. Avevano messo in produzione una nave da guerra ancora più grande, ancora più grande, cioè gigantesca, proprio perché volevano fare la super mega battleship potentissima. Ecco, poi si sono accorti che in realtà non conveniva, non conveniva per niente, soprattutto perché la Yamato era stata completamente inutile durante la seconda guerra mondiale. La fine della Yamato fu interessante. È stata lanciata durante la battaglia d'Okinawa e la si voleva utilizzare come gigantesca nave kamikaze o comunque, se non fosse esplosa, farla arenare sulla spiaggia e usarla come artiglieria, ecco, come artiglieria costiera. Ma vabbè dai ragazzi, questa cosa non c'entra proprio nulla. Stavo parlando di Uber. Alla fine ragazzi mi conoscete ormai, quello che mi viene in mente ve lo racconto e quindi non ci posso fare nulla. Eccola qui, le elezioni. Vediamo chi facciamo vincere. Abbiamo i democratici, John Hans Garner, Alf Landon dei Repubblicani, Wei Long e Jack Reed. Vediamo chi ha più consenso. Mi sembra Wei Long, quindi dai facciamo che vince lui, anche se in realtà non c'è nessuna maggioranza. le gioie di un sistema proporzionale. Vediamo intanto le ricerche che possiamo fare. Possiamo continuare. Concentreti di industrie e magari questo per migliorare le dottrine. L'abbiamo fatta? Sì, allora mettiamo la dottrina. Perfetto, andiamo pure avanti. Eccolo qui, il nostro presidente Wei Long. Ah, quindi Wei Long è diventato adesso il presidente degli Stati Uniti d'America nelle elezioni. Una figura molto interessante. Qui è segnata come, ovviamente, authoritarian democracy. Sì, è quella che più si adatta alla sua figura e al suo pensiero. Poi, ovviamente, tra i suoi sostenitori c'erano anche gente del Ku Klux Klan o comunque di orientamento molto estremista. Però voi le starete chiedendo, ma questo Wei Long, che spunta fuori così importante nella Kaiserreich e così poco conosciuto? Beh, molto semplicemente perché lui è stato assassinato, ragazzi. È stato assassinato nel 36, se non ricordo male, o forse nel 35, quando lui proprio, magari ho sbagliato completamente data, lui era già diventato governatore della Louisiana e poi senatore, però è stato ucciso da alcuni suoi avversari politici. Almeno così si dice. Io diciamo che non sono mai, quando si tratta degli americani, non è che mi fido poi così tanto, perché alla fine hanno tante ombre nel loro passato, tanti scheletri nell'armadio. Abbiamo l'assassino dei Kennedy, l'assassino di Wei Long, l'assassino di quello che ha ammazzato i Kennedy. Cioè, l'11 settembre... Oh, 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 per l'arbo. Oddio, ragazzi, ma cos'è quel mirino laser che mi sta puntando? Attenzione, l'opposizione sta denunciando Long come tiranno. Eh, cavoli, adesso è un bel problema, perché questo potrebbe dare inizio alla guerra civile, quindi è questione di giorni, forse qualche mese. Uh, bene, 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 la Corea ha dichiarato l'indipendenza dal Giappone. Beh, hanno fatto proprio bene, perché i coreani sono stati annessi con l'inganno. Vediamo, però hanno 15 divisioni, se dalle 7 alle 15 divisioni mi sa che verranno facilmente polverizzate dai giapponesi che sono molto più forti. Tanto qui stanno dichiarando anticostituzionali i miei ordinamenti. No, questa cosa non va bene, mi dà fastidio, ragazzi. Io sono contrario a tutte le corti costituzionali del mondo, soprattutto a quella italiana. Cioè, se io voglio fare una legge, non è che me la puoi bocciare. Attenzione, attenzione che esce fuori il mai dire... il mai dire dittatoriale. Ragazzi, converto questa divisione di cavalleria a infanteria, perché al momento non serve avere una divisione di cavalleria. Spero che abbia tutto l'equipaggiamento necessario. Sembra di sì, sembra di sì. Intanto si sta sviluppando un'altra... sì, sì, c'è tutto l'equipaggiamento. Vediamo quanto abbiamo da parte. 100 fucili e 250 artiglieri. Mamma mia, che schifo, che schifo. Tanto attenzione. Abbiamo mandato delle persone ad arrestare Reed. È arrivato finalmente il nostro eroe. Il nostro Douglas MacArthur, con suoi fedelissimi, con l'esercito dalla sua parte, ha dichiarato tiranno Long e l'ha rimosso. Però, a quanto pare, alcuni lealisti di Long l'hanno informato dell'arresto imminente ed è scappato a New Orleans. Vediamo. Allora, gli Stati Uniti ora sono comandati da una giunta. Vediamo, paternal autocrats sono di fatto i fascistoni. Abbiamo Douglas MacArthur con la sua pipa. Bellissima. Uno dei miei personaggi della Seconda Guerra Mondiale preferiti. Fu anche un ottimo generale su certi versi. Eccola qui. La prima... anzi no. Tutte e due. Prima i unionisti di Weilong e adesso pure i comunisti. il disastro è iniziato. Rimarremo con la Repubblica. Rimarremo con gli Stati Uniti. Ma dov'è il nostro esercito? Oddio, ma abbiamo solo sei divisioni? Ah, ok. Eccolo qui, eccolo qui. La Seconda Guerra Civile. Ancora, dice questo? Eh, hanno fatto la secessione pure gli Stati Uniti del Pacifico. Allora, gli Stati Uniti del Pacifico per una ragione diversa. Cioè, hanno detto sta succedendo un casino. Noi ci vogliamo tirar fuori dalle cose che succedono nella costa orientale. Quindi facciamo la secessione. In generale, adesso siamo tutti contro tutti con i nostri Stati Uniti di Douglas MacArthur. Ragazzi, se la serie vi piace, se vi ha incuriosito, se vi interessa e se vi piacciono i discorsi del vostro me dire, mi raccomando lasciate un like per supportare la serie ed il canale. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti da vostro imperatore. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!